Anticipazioni Terra Amara, l'addio commovente a Beice si svolge a Istanbul, ma la cerimonia funebre vede la partecipazione di soli tre intimi. Nelle prossime puntate, il personaggio di Beice dirà addio definitivamente alla serie, una notizia che molti di voi attendono con impazienza, desiderosi di vederla uscire dallo schermo. Tuttavia, nonostante le azioni oscure e spietate di Beice, dobbiamo riconoscere che il personaggio è stato un elemento chiave nell'evolversi della storia. Creando dinamiche complesse e intriganti. Il suo gesto distintivo della mano e la sua insaziabile brama di ricchezza saranno ricordati sicuramente. Questa settimana segna l'epilogo della presenza di Beice nella serie, e sebbene non possiamo augurarle pace eterna, date le sue azioni passate e i crimini commessi, è innegabile che abbia contribuito a rendere Terra Amara una storia ricca di suspense e intrighi. Da oggi, Terra Amara ci regalerà episodi carichi di suspense e azione, che ci terranno letteralmente incollati allo schermo fino al drammatico momento in cui Beice cadrà dal dirupo. Tuttavia, prima di raggiungere questo epilogo, la donna farà una rivelazione scioccante, confessando apertamente tutti i suoi crimini. Uno dei momenti culminanti sarà quando Zuleia, con voce trepidante, chiederà a Beice il motivo per cui ha ucciso sua madre. La zia del dottore, scuotendo la testa con rabbia, risponderà con una furia incontenibile. Quale madre? Ancora la chiami mamma? Quella donna? Non ha fatto nulla per te, ti ha separato dall'uomo che amavi e ha rovinato la tua vita. Saresti dovuta essere tu a porre fine alla sua esistenza, ma alla fine sono stata io a farlo. La dottoressa Mujgan, osservando questo sconvolgente scambio, sarà costretta ad assistere con orrore alla tragica caduta di sua zia Beice dal dirupo. Nonostante la condotta riprovevole della donna, era l'unico parente che le era rimasto, e in qualche modo provava un minimo di affetto nei suoi confronti. Beice, sebbene fosse sempre guidata dai suoi interessi personali, aveva dimostrato un certo attaccamento a Mujgan, molto più di quanto sua madre avesse mai fatto. La morte di Beice rappresenterà un momento decisivo nella trama di Terra Amara, che lascerà un segno indelebile nella vita dei personaggi coinvolti. Dopo la tragica morte di Beice, la vita di Mujgan si trasformerà in un vero e proprio incubo. Non solo scoprirà che sua zia è la colpevole degli omicidi di un care dei suoi due ex mariti, ma sarà sconvolta nel realizzare che persino suo padre è stato coinvolto in queste oscure vicende per ben due volte. La giovane sarà travolta da un profondo senso di vergogna nei confronti della propria famiglia, poiché gli orrori rivelati metteranno in luce una storia familiare distorta e oscura. Dopo queste rivelazioni devastanti, Mujgan sentirà l'irresistibile desiderio di lasciare la città insieme a suo figlio, cercando di sfuggire al peso del passato che ora l'ha perseguita implacabilmente. Nel frattempo, nella villa, all'insaputa di quanto accaduto con Beice, Gaffur farà una sconcertante scoperta. Il denaro che aveva rubato e nascosto in casa è improvvisamente scomparso. La sua reazione sarà talmente rumorosa da attirare l'attenzione di Sanie, la quale si chiederà chi possa essere entrato nella loro dimora per compiere un furto. È in questo momento critico che Rashid fa il suo ingresso, portando notizie cruciali dalla città. Egli rivela che al club di Adana, Zuleya è riuscita a smascherare Beice, dimostrando inequivocabilmente che era lei l'assassina di Unkar. Gaffur e Sanie, mettendo insieme i pezzi del puzzle, giungono alla scioccante conclusione che Beice ha rubato i loro soldi per fuggire dalla città. Rashid prosegue nel raccontare gli eventi, e ben presto tutti i dipendenti della villa apprendono la notizia tragica che Beice si è lanciata giù dal dirupo, chiudendo definitivamente il suo capitolo nella storia di Terra Amara. Questi eventi segneranno un punto di svolta nella trama, portando a conseguenze imprevedibili per i personaggi coinvolti. La notizia della morte di Beice si diffonde come un incendio incontenibile, raggiungendo rapidamente ogni angolo della città e persino Istanbul. Più tardi, Demir si reca all'obitorio, dove è accolto dalla sua amante, che ha già appreso della responsabilità di Beice nella morte di Unkar. Presto si uniscono a loro Fecheli e il pubblico ministero, i quali decidono di archiviare il caso di Unkar, considerando che finalmente è giunta una conclusione che rispecchia la giustizia tanto agognata. Fuori dall'ospedale, Fecheli e Demir sono concordi sul fatto che Beice non debba essere sepolta ad Adana. In tal senso, Ali Rahmet sarà incaricato di recarsi a casa della dottoressa per discutere delle modalità del funerale. Tuttavia, Mujgan, consapevole della situazione e desiderosa di onorare la memoria della matriarca Unkar, spiega a Fecheli che il funerale di sua zia si svolgerà altrove. Questa decisione riflette il rispetto per la figura di Unkar, poiché nessuno a Kukurova si sente in grado di partecipare al funerale di Beice. Tale scelta non è un segno di ostilità nei confronti di Mujgan, ma è principalmente una manifestazione di rabbia per le azioni passate della donna nei confronti di Unkar e delle persone della regione. La dottoressa prende su di sé la responsabilità di portare la zia a Istanbul, dove si terrà un funerale che rispecchia in maniera più adeguata la storia tumultuosa di Beice e il turbamento che ha seminato nella sua scia. Prima di partire per Istanbul, la dottoressa Mujgan si trova a casa di Fecheli e si mette in contatto con le amiche di sua zia. La speranza è che accorrano per condividere la triste notizia e partecipare alla cerimonia funebre in onore di Beice. Tuttavia, le aspettative della dottoressa rimarranno disattese, poiché le amiche di Beice scelgono di non presentarsi. Questa mancanza di partecipazione rappresenta un colpo al cuore per Mujgan, poiché aveva sperato che almeno le amiche della zia avrebbero dato l'ultimo saluto a Beice. Nel mezzo di questo momento di grande dolore e solitudine, a fianco di Mujgan compare Fikret, offrendo il suo sostegno incondizionato. Fikret si rivela il suo più grande alleato in questo periodo di lutto, e la giovane dottoressa apprezza profondamente la sua presenza costante. I due giovani intraprendono insieme il viaggio verso Istanbul con l'obiettivo di assicurare una degna sepoltura a Beice. Mujgan è profondamente turbata dal dolore che la opprime, e gli avvenimenti recenti hanno rappresentato una sfida in mane per lei. Tuttavia, trova conforto e sostegno incondizionato solamente nella compagnia di Fikret, il quale rimane al suo fianco senza mai allontanarsi, offrendole un appoggio indispensabile in questo momento di travaglio emotivo. Dopo alcune ore di viaggio, Mujgan e Fikret arrivano finalmente al cimitero designato per dare l'ultimo addio a Beice. Si dirigono al luogo dove la donna sarà sepolta, inizialmente circondati solo da alcuni operai pronti ad assistere nel processo di sepoltura. Tuttavia, a un certo punto, si unisce a loro una certa Ulya, un'amica di lunga data di Beice. Mujgan, intraprendente e desiderosa di comprendere il motivo per cui le altre amiche di sua zia non si sono uniti a loro per condividere questo commiato, rivolge a Ulya una domanda diretta. Tuttavia, le risposte fornite da Ulya, sebbene cerchino di spiegare l'assenza delle altre amiche, non riescono completamente a convincere la dottoressa. È evidente che tutti a conoscenza degli eventi accaduti a Kukurova e che le scuse sembrano non vere, mancando dell'empatia che Mujgan avrebbe desiderato ricevere da parte loro. Questo rifiuto di sostegno da parte delle amiche di Beice aggiunge ulteriore dolore al già pesante fardello emotivo che la dottoressa sta affrontando. Pochi istanti dopo, Mujgan si prepara a seppellire la sua parente defunta in un rito estremamente difficile, segnando così la fine del capitolo di Beice. Nonostante la malvagità di Beice e i torti che ha commesso, Mujgan riesce a trovare un filo di affetto nel suo cuore e cerca di dimenticare la cattiveria, esprimendo il suo perdono per tutti i danni causati. Tuttavia, è evidente che gli altri non saranno altrettanto disposti a perdonare, e la dottoressa si trova ad affrontare il difficile compito di salutare una parente che ha rappresentato una figura complessa e problematica nella sua vita. Durante l'ultimo saluto a Beice, la dottoressa cerca disperatamente di evocare l'immagine della zia di un tempo, quando era ancora una bambina, facendo del suo meglio per non lasciare che le atrocità commesse le annebbino i ricordi. Con le lacrime che le rigano il viso, cerca di separare la persona che sua zia era una volta da ciò che è diventata negli anni. Ma alla fine, quel momento segna la necessaria conclusione di quel capitolo oscuro della sua vita. Fikret, il suo pilastro di sostegno, la solleva tra le sue braccia, accompagnandola nel difficile processo di dire addio a Beice per sempre. Tornati in albergo, l'emozione della dottoressa la travolge, portandola a smettere di mangiare a causa del suo stato emotivo. Nonostante ciò, Fikret si dimostra persistente nel cercare di aiutarla a superare questo difficile momento. Durante una cena condivisa, Mujgan, distratta, trova un giornale di Istanbul che riporta tutti i crimini commessi da suo padre e da sua zia Beice. Questa scoperta scatena in lei una reazione emotiva intensa, una valanga di emozioni e ricordi che la sommergono. Si sente sopraffatta e incapace di far fronte alla dura realtà di quanto sia stato coinvolto suo padre nella vita di Beice e di quanto oscuro sia il loro passato condiviso. Fikret, sempre attento e compassionevole, cerca immediatamente di tranquillizzare Mujgan, ma sa che è difficile trovare conforto in una situazione così difficile e travolgente. La dottoressa si trova ad affrontare una tempesta emotiva. E il suo sostegno in quel momento si rivela di fondamentale importanza per aiutarla a superare questo periodo di dolore e turbamento. Le notizie si diffondono rapidamente e la gente dimenticherà. Fikret cerca di rassicurare Mujgan in un momento di profonda incertezza. La giovane dottoressa, però, si perde nei suoi pensieri, tormentata dalle domande che la affliggono. Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Cosa succederà alla mia vita e a quella di mio figlio? Queste domande le fanno riflettere principalmente sulla fama che le attende, essendo la nipote di una spietata assassina. La paura del giudizio degli altri e le conseguenze del passato oscuro di Beice la angosciano profondamente. Nel frattempo, Demir si apre con Zuleya, esprimendo la sua profonda gratitudine. Riconosce il coraggio e l'affetto sincero che Zuleya ha dimostrato nei confronti di Unkar, considerandola come una figura materna. Non ho parole per ringraziarti, Zuleya. Ti sei comportata come se fosse la tua vera madre. Ti sono debitore. Quando ti guardo, mi ricordi lei. Ed è per questo che Cucurova ti ha accettato e ti vedono come la nuova signora di questo posto. Tu sei una donna potente quanto lei, le rivolge parole di apprezzamento sincero. Lo sguardo di Zuleya si riempie di amore per il marito e in quel momento il legame tra loro si fa ancora più forte, rivelando l'amore che è sbocciato tra di loro nonostante le sfide e le difficoltà. Con queste ultime anticipazioni si getta uno sguardo profondo su come i personaggi stiano affrontando le loro sfide personali, i segreti del passato e il cambiamento delle dinamiche nel mondo di Cucurova. La trama si dipana in modo avvincente, con i personaggi che cercano di trovare la forza per affrontare le sfide che il destino a loro riservato. Cosa sarà terra amara senza la presenza di Beice? Scopriamolo insieme! Iscrivetevi subito al canale per restare aggiornati sulle prossime puntate. Grazie, a presto!